Numeri importanti raggiunti al centro vaccinale città di Agropoli e nell'intero distretto 70 riguardo le somministrazioni dei vaccini e dosi booster. A tracciare un bilancio della situazione e a spiegare come si procederà nei prossimi mesi è Raffaele Meola, responsabile amministrativo per le vaccinazioni del distretto 70. Siamo a metà febbraio e come dei obiettivi che c'eravamo prefissati all'inizio di questa nuova campagna vaccinale per le dosi booster abbiamo quasi terminato l'opera. Infatti più o meno su tutti i punti del distretto siamo intorno al 62-63% di media su terza dose sopra il livello nazionale per cui ci possiamo dire felici e soddisfatti del risultato raggiunto. A tale proposito per il mese di marzo saranno ulteriormente ridotte le giornate di vaccinazioni ai fini di contingentare le energie fisiche ed anche economiche. Ad Agropoli vaccineremo a marzo solo i venerdì di tutto il mese mentre nei punti di Acciaroli e Santa Maria di Castellabate faremo solo due giornate in un mese per andare ulteriormente a ridurre poi ad aprile considerato che comunque un altro 20-25% deve ancora effettuare la dose booster secondo i tempi che devono ancora trascorrere e per garantire comunque anche a chi non ha fatto ancora la prima dose e un punto vaccinale sempre aperto. Quindi siamo contenti e soddisfatti della risposta che ha dato la popolazione del nostro distretto. Consideriamo che per tutto il distretto siamo circa 90.000 persone siamo arrivati a un 80-82% di vaccinazioni effettuate quindi un numero davvero notevole. Solo tra il 12 dicembre e fine dicembre abbiamo fatto i 15.000 ad esempio. A inizio gennaio quando i numeri erano molto altri viaggiavamo circa 4-5.000 a settimana. Ad Agropoli siamo arrivati a 800 in un giorno, ad Acciaroli a 500, a Santa Maria a 8.50 e questi numeri ci hanno permesso di chiudere la partita a metà febbraio. Ora a tenere aperto il centro proprio per garantire la vaccinazione a tutti, anche a chi finora non ha voluto farla per qualunque ragione.